Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Ex volto di, uomini e donne, coinvolto in un terribile incidente stradale. Una storia che ha sconvolto i fan dello show. Alessandra Somensi, famosa per la sua partecipazione al popolare programma televisivo condotto da Maria De Filippi, ha vissuto un momento di puro terrore. Mentre si trovava al volante, la giovane è stata coinvolta in una collisione automobilistica che ha completamente distrutto la sua macchina, come dimostrato dalla foto postata su Instagram. Fortunatamente, Alessandra è uscita illesa dall'incidente, ma l'episodio ha lasciato un segno indelebile sulla sua vita. Ho avuto un incidente e sto aspettando l'arrivo delle autorità. Sarò assente per un po' di tempo, ha scritto la Somensi sui social. Oltre alla paura, l'ex corteggiatrice dovrà affrontare anche la spesa per acquistare un nuovo veicolo. Speriamo che Alessandra possa riprendersi presto da questa brutta esperienza e tornare alla sua routine quotidiana.